buongiorno a tutti ragazzi eccoci qui con un nuovo video finalmente ritorna il video sulla moto gp ragazzi lo so che sto mi sto incentrando molto sul basket però ragazzi volevo aprire mondi su questo canale oggi ragazzi intanto vi invito vi sfido nei commenti a scrivere qui sotto dirò una parola a caso che non c'entra un cazzo con l'argomento mi scrivete il commento e vi saluterò in un video allora ragazzi partiamo subito con questa notizia jack miller nicolò rinnova ragazzi nicolò con la con la ducati fino al 2022 ragazzi nicolò veramente una grande cosa il pilota era deduce da da una vittoria che non arrivava ormai da cinque anni quindi ragazzi inizia a essere tanto tempo tempo ma nelle ultime due carri ragazzi ha vinto sia in spagna che ha in francia nicolò ragazzi veramente una grande nicolò vittoria grande grande nicolò ducati veramente ma soprattutto un grande nicolò impegno veramente questo nicolò ha fatto una grande stagione sta facendo una grande nicolò stagione l'australiano veramente nicolò molto bravo molto bravo l'australiano nicolò jack miller ragazzi nicolò rinnoverà rinnova con la ducati fino al 2022 nicolò il pilota e riduce dalle ultime due vittorie nel gp di nicolò spagna e di francia allora ragazzi veramente grande grande ducati che ragazzi adesso veramente si trova due grandi piloti nicolò ovvero che cobagnaia poi c'è anche ragazzi da non scordare non mi viene il nome marini ecco zarco nicolò e adesso ragazzi c'è anche miller ma c'è qualcun altro che mi sta sfuggendo ragazzi veramente grande nicolò ducati in ogni caso ragazzi nicolò noi ci vediamo bella scusate se duretto nicolò poco però ragazzi registro velocemente nicolò bell